Si chiama Grande Ferro R ed è l'opera realizzata dall'artista Alberto Burri nel 1990 nell'area esterna del Palade Andrade di Ravenna. Sotto l'opera monumentale, durante i giorni di OMC, è stato allestito un bar con tavolini che non è piaciuto all'amministrazione comunale. Gli assessori alla cultura e al patrimonio Elsa Signorino e Massimo Cameliani manderanno una lettera alla società metro concessionaria dell'area per spiegare la necessità di evitare usi impropri del monumento. Negli anni scorsi non sono mancati altri episodi simili come quando l'opera è stata utilizzata come parcheggio o per affiggere manifesti pubblicitari. Per la valorizzazione di Grande Ferro R nel 2017 l'ex assessore Guido Guerrieri ha aperto la pagina Facebook Ravenna per Burri. Il bene è di proprietà del comune ma è dato in concessione fino al 2021 al gestore e va detto che nella concessione non erano previsti, perché è una concessione vecchia, particolari tutele e accorgimenti per la tenuta del bene dell'opera di Burri. Questo non toglie però che l'amministrazione comunale possa nell'ambito delle potestà, quindi da parte dell'assessore alla cultura e dell'assessore allo sviluppo economico e al patrimonio, indirizzare una lettera al concessionario affinché lo stesso presti attenzione e tutela nei confronti dell'opera molto importante per la comunità ravennata e per la comunità italiana. Questo è quello che noi avremo intenzione di fare per tutelare maggiormente l'opera di Burri.